Secondo te uomini e donne hanno le stesse opportunità lavorative o no? Secondo me no, anzi so per certo che anche a parità di lavoro le donne hanno retribuzioni minori. Non sempre, perché comunque la donna nella famiglia ha un ruolo probabilmente più attivo. Secondo una ricerca le ragazze sono più studiose degli uomini, sarà vero? Credo di sì, è possibile. Secondo me le ragazze si organizzano di più, forse perché sono tendenzialmente un po' più ansiose, però come risultati penso che più o meno siano uguali poi tra maschi e femmine. Ma è vero che le ragazze sono più portate le faccende domestiche? Beh allora nel mio caso assolutamente no, però magari delle mie amiche lo sono. Secondo me è un fatto esclusivamente culturale che quindi non ha niente a che fare con l'essere portati o meno, secondo me non è vero perché tutti abbiamo le capacità per farle. Mio padre magari qualche volta cucina ma se gli chiedi di fare i letti o passare l'aspirapolvere ti guarda male. Su il tuo compagno date una festa, chi cucina e chi intrattene gli ospiti? Il mio compagno cucina e io intrattengo ovviamente gli ospiti. La cena possiamo prepararla insieme e insieme possiamo anche trattenere gli ospiti. E penso che sia indifferente. Gioco della torre, ti propongono un importante lavoro all'estero. Cosa fai? Chi butti giù? La tua compagna o il lavoro? Il mio compagno. E tu chi butti giù? Il mio compagno. Il mio compagno a questo punto. Secondo te sul lavoro le donne sono più aggressive degli uomini? Allora secondo me le donne non sono più aggressive degli uomini, sono più determinate. La donna è più aggressiva dell'uomo. Il suo lavoro non lo so, però un rapporto magari di coppia sì. Credo che debbano dimostrare qualcosa in più rispetto agli uomini. Se la tua ragazza guadagnasse più di te ti darebbe fastidio? Secondo me no. No, anzi meglio. Secondo te è possibile essere mamma e manager di successo al tempo stesso? Beh, diciamo che effettivamente sono due cose un po' difficili da conciliare, però secondo me non è impossibile. Completa la frase. Dai nemici mi guardi Dio, che dal fisco, dalla Juve o dalle amiche mi guardo io? Beh, o dal fisco, dalle amiche, non dalla Juve. Dalle amiche? Dalle amiche mi guardi io. Dalla Juve. Sei invitata ad un galà esclusivo. Chi porti? La mamma, il tuo compagno o un'amica? Lei. Anch'io lei.